Intanto nel 1952 un pianista di Memphis, Roscoe Gordon, inventa il ritmo ska con No More Dogging. E Art Times di Charles Brown entra in classifica e inizia una nuova era per la musica pop. Negli anni 50 ci sono anche Dean Martin, Frenzinatra, Perry Como, Tony Bennett e guadagnano grandissima popolarità con le loro canzoni romantiche, finalmente non urlate grazie all'amplificazione. Sinatra è stato in effetti il primo a generare reazioni isteriche nei fan, antesignano in un certo senso dell'era delle teen pop star degli anni 60.